Il Consiglio Comunale, ma per le vie previ, ho accettito un sentimento comune, responsabile dell'aspetto istituzionale e politico, per un minuto di raccoglimento della scomparsa dell'onorevole Presidente Silvio Berlusconi, un uomo che al di là dell'appartenenza delle posizioni politiche, comunque ha segnato e ha tracciato un pezzo importante politicamente istituzionalmente nella storia della cosiddetta Seconda Repubblica. Grazie. Grazie.